Lalle Muori 3 2 1 Go Buongiorno ragazze e ragazzi Oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo video Questo video si tratta di un video molto molto carino Un video ASMR Ovvero uno dei video che gira tanto su Instagram Ovvero quello lì della spugna che tu premi ed esce l'acqua più i glitter oppure solo l'acqua Noi abbiamo preso quindi per fare questo ASMR ci stiamo provando quindi crediamo che dovrebbe venire però non si sa dovete lasciare dentro ha un contenitore abbastanza grande una ciotola ciclante Noi abbiamo utilizzato il contenitore per gli indumenti per mettere e abbiamo utilizzato quella abbiamo messo dell'acqua e essendo che ora è tra virgolette inverno cioè fa un ghiaccio tremendo io l'ho messa calda ed è diventata ghiacciata quindi mettetela come mi pare non lo so e poi mettete la spugna dentro una volta una volta messa la spugna dentro la dovete lasciare per una notte e noi poi l'abbiamo lasciata anche una mezza giornata fino alle 4 perché si esatto per questo noi metteremo anche glitter poi potete lasciare così e poi ci serve un coltello per tagliare semplicemente il pezzo e poi un adulto specialmente per fare questa cosa ovvero noi utilizzeremo il cucchiaio e non verrà sicuramente un cerchio perfetto però se voi volete un cerchio perfetto lo chiedete ai vostri genitori e quindi utilizzeremo un cucchiaio per fare il cerchio secondo me viene bene perché questo se faccio un tan secondo me viene bene vabbè tagliamo allora perché no aspetta sempre così perché no aspetta sempre così ok ragazzi allora perché ci sarebbe è rimasta male perché dentro è asciutta e quindi dovremo bagnare un po' questo lato però ci proviamo così anche se è molto complicato mettete il cucchiaio così e immergete la vostra il vostro cucchiaio fate un po' così e così e così e così aleee raga allora abbiamo fatto tipo il cerchio guardate in realtà è venuto abbastanza bene si dai si può fare oh my god ok cerchio fatto ora mettiamo i glitter guardate che figata vedete 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 guardate ne facciamo metà azzurri e un po' un po' un altro po' un altro po' un altro po' raga ed è lì e ora metà rosa mi sto sporcando il dito però vabbè ora stendiamo col cucchiaino perché io sì mi piace stendere ok ora facciamo uno un lato un lato oh mamma io forse di glitter azzurri ne ho messi un bel po' eh io anche oro ne ho messi un bel po' ok ora messi i glitter prendiamo la sodola in cui abbiamo fatto tutto il nostro lavoro e poi prima lei e poi io ok allora io magari io un po' modello un po' vabbè è uguale forse si oh mamma non l'ho fatta apposta va bene scusa mamma mamma io guardate guardate mamma io l'ho fatta apposta non ce l'ho a prendere con me è più sbagliata eh appunto vai vado 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 eccola qui raga la mia cosa è pronta è tipo la cosa più bella raga la mia invece è pronta bella perfetta molto gassi molto così e ora diventerà una spugna rotta attenzione che combini dove vai fate queste mani fate queste mani vado a lavarle giulia aspetta a fare danni giulia hashtag facciamo solo danni è riuscito va bene io vado a lavarmi le mani raga guardate l'interno allora aspetta dove lui dai 1 2 3 aspetta aspetta tira contano raga non vi piace come l'ho fatta dentro è tipo tutto misto e ora qua è tutto bello un attimo vuoi venire a vedere si c'è raga le mie mani voglio premerle guardate uno silenzio un attimo ok raga no vabbè allora aspetta fammi tenere un po che avete combinato sei pronta da prendere la mamma allora raga c'è avanzato un pezzo quindi non mettiamo i glitter ma facciamolo anche senza quindi raga se no aspetta raga vengo subito per i più piccini devono tagliare da soli si ovviamente oppure no da soli no assolutamente ho sentito male babbo allora per i più piccini non dovete assolutamente tagliare da soli ma fatevi aiutare da un genitore anzi proprio il vostro genitore deve tagliare la spugna allora giulia tieni e inizi tu ora no 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 si deve iniziare su no fesso carta forbice no 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 perché prima ho iniziato io dai vai 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 aspetta aspetta fammi arrivare fammi arrivare vediamo un po' io magari mi allontano perché questo è solo acqua e lei mi potrebbe spizzare vai allora 3 2 1 go raga per dirvi quest'acqua è ghiacciata tocca a me togli le mani le mani io ora aspetta dai a me a me a Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Insieme vai, insieme, schiacciate insieme Vediamo un po' se viene fortissimo Ok raga possiamo confermare che siamo veramente brave Esperimento riuscito Ora andiamo a lavarci le mani perché noi facciamo solo danni Facciamo solo danni Facciamo solo danni Ora andiamo a lavare le mani e ci vediamo tra poco Dani corri 3, 2, 1, go Allora ragazzi questo era il video È stato un video molto carino Ci stiamo appassionando a questi video ASMR Se vi è piaciuto questo video lasciate tantissimi like Così capiremo che vi piacciono E noi magari ne faremo altri se ne troviamo altri E niente quindi questo era il video A me sinceramente è stato bello quando io ho fatto Quando è scoppiato Perché tipo la spugna E poi c'era già la tua spugna Sfracellata Poi la pistola mia tutta sfracellata Allora mi sono toglia di mettere le mani nel contenitore e fare Però dove si sono levati i glitter Sì raga Prima volta che non si levano i glitter dalle mani Non so perché sì Quindi ragazzi Allora a me è piaciuto molto 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 tutto questo Mi sono divertita tantissimo quando ho fatto Quando ho fatto per la prima volta Ho schiacciato per la prima volta i glitter Perché lei la sta cercando da tutte le parti Dai fiorai Dai cinesi Da tutte le parti raga Poi mi è piaciuto tantissimo fare il Schiacciare la spugna senza glitter senza niente E poi sai che mi è piaciuto tanto a me Condividerlo insieme a voi Perché voi insieme a voi formiamo la magic family Cioè amore puro Quindi ragazzi questo è il video Spero vi sia piaciuto A me è piaciuto tantissimo Iscrivetevi all'instagram Marghe Giulia Kawaii Delle vostra opzione Su facebook Marghe Giulia Kawaii Su secondo canale Maggi TV Su musica Mi piace la Marghe Giulia Reale Se volete le maglie 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 Andate su www.marghiguliakawaii.it Se vi è piaciuto Vi ricordi la Marghe Mi sono Io Giulia Ciao Formiamo la magic family Cioè amore puro Su fire Quei ci chiamiamo Marghe Giulia Kawaii E poi per iscrivervi al canale E per iscrivervi al canale Basta cliccare Il tasto rosso Iscriviti Per diventare grigio Attiva la campanella E quando attivate la campanella Tra le opzioni Scegliete tutte Vi ricordo che Io Marghe Io Giulia Insieme E poi formiamo la magic family Cioè amore puro Senza più Lasciate la commenta Iscrivetevi al canale E conoscete dappertutto Se ne hai piaciuto Scegliete la campanella Scegliete la campanella Scegliete la campanella Grazie a tutti.